Il 9 ottobre il professor Renzo Infante ha proseguito il suo discorso per la settimana biblica commentando il Vangelo di Matteo e aggiungendo nuovi spunti di riflessione soffermandosi in particolare sulle varie differenze tra il Vangelo di Matteo e gli altri evangelisti come ad esempio la figura di Giuseppe che viene messa in risalto rispetto a quella di Maria a differenza del Vangelo di Luca Matteo e Luca hanno scritto indipendentemente in due parti lontane avendo però entrambi a disposizione il Vangelo di Marco, il più antico Il professore Infante ha delineato tutti i punti in comune e le discrepanze sostanziali facendo interessanti voli pindarici e citando aneddoti dei Vangeli apocrifi La settimana biblica proseguirà ancora il 10 ottobre con l'arrivo di Don Rocco Malatacca Grazie Grazie